Ah, Houston, senti qui e parlano tutti di te, caro Antonio, come mai? Beh, non lo so, sai, si può parlare in tanti modi diversi e quindi... Tra l'altro mi dicono che... Spero che siano clementi, spero che siano clementi. Ma mi parlano di... E qui c'è Gianni e Stefano che ti salutano tanto e mi hanno detto un sacco di cose su di te la ribalta. Anche una cosa non piacevole, porta i dischi la prossima volta. Tutto bene, c'è un cartello qua, Antone Aiazzi non ha portato i dischi.